Ha preso il via la scorsa settimana con le prime prove scritte e la quarta edizione del premio Carmelina Iovine la ragazza di Rayano scomparsa tragicamente all'Aquila la notte del sisma del 6 aprile 2009. La prima prova scritta si è svolta nella biblioteca del liceo sul Monese. La commissione esaminatrice è preseduta dal dirigente scolastico Catrina Fantauzzi e composta dai docenti di lingua inglese Vittoria Liberatore e Marco Paolini. Il premio che consiste in una settimana a Boston per due studenti, inizio maggio, e che già nelle passate edizioni ha dato l'opportunità ad altri alunni di viaggiare, conoscere una nuova realtà e approfondire lo studio della lingua inglese è finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna. Un'iniziativa possibile grazie alla collaborazione del Cavalier Filippo Frattaroli di Boston. Carmelina Iovine, studentessa universitaria al tempo del sisma, era un'ex alunna del liceo linguistico Gian Battista Vico di Sulmona che in sua memoria ha voluto istituire il riconoscimento. Grazie. Grazie.